Perché è l'antagonista che infastidisce di più un uomo l'ex? Bah, diciamo che non è soltanto l'ex l'antagonista che infastidisce più, però sicuramente l'ex ha i suoi effetti, perché questo solo su alcuni uomini, su quelli che sono caratterizzati da un elevato grado di possessività, perché questi uomini, ma talvolta succede anche con le donne, sono gelosi anche del passato della persona, e questo è un assurdo, ci sono persone che ti dicono, ah vabbè ma se adesso stai con me devi togliere tutte le tue foto, che ne so, da Instagram, da Facebook, dove c'è anche il tuo ex o la tua ex, perché è una gelosia retrograda. Questo se una persona si comporta in questo modo, devi lasciarla subito, istantaneamente, perché diciamo l'ex è l'ex, quindi a meno che tu non, palesemente diciamo, non abbia ancora esigenze di frequentare l'ex, e questo succede quando sei stata lasciata o sei stato lasciato quando eri innamorato, questi sono soltanto i casi in cui, alcuni, in cui veramente l'ex potrebbe essere un problema, ma normalmente l'ex non rappresenta più un problema, a meno di queste situazioni, che però sono anche abbastanza frequenti, soprattutto perché gli uomini spesso fanno questo con le loro ex, attribuiscono questo anche alle donne, che invece nelle donne c'è questa situazione, ma è meno frequente, quindi comunque se una persona, diciamo, è gelosa del tuo ex, significa che è sicuramente una persona insicura, e significa che sicuramente è una persona che è, diciamo, molto possessiva, quindi tu, diciamo, depistalo con il tuo ex e fagli le corna con un altro, uno nuovo, così lui penserà all'ex, cercherà di capire se vedi o non vedi l'ex e tu vedi un altro, ad esempio, potrebbe essere certo, oppure manda l'affanculo perché comunque è una persona che è comunque non eccessivamente possessiva, che non merita, però queste sono le motivazioni, è la cosiddetta possessività retrograda che, diciamo, caratterizza molti uomini che hanno una gelosia, vorrebbero essere gli unici, non tollerano neanche che tu abbia avuto un ex in alcuni casi. Bene, per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Terramasco, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, Massimo Terramasco, crescita personale, felicità, benessere, amore, autostima, e il nuovissimo Esoterismo e spiritualità con Massimo Terramasco. Ciao a tutti!